Ok ragazzi finalmente eccomi qua con il video con il secondo teaser in realtà alle 17 ci hanno trollato con un video di salva al mondo cioè riperoni proprio Raga quanti like per questa season 7 mi raccomando fatevi sentire qua sotto al video perché secondo me questa stagione 7 sarà il top Ragazzi secondo teaser partiamo un attimo dal primo raga perché ho detto nel video che voglio fare voglio vedere entrambi teaser Ok si vede subito raga si capisce subito che ci sarà la neve con la season 7 e probabilmente delle zone ghiacciate ok Abbiamo sulla destra anche una cosa interessante lo avete già notato tutti quanti ok ci sta un personaggio sembra su uno snowboard Ma guardiamo anche al centro ragazzi Aurora Boreale e due occhi un po' come gli occhi di un mago no e questa è corna di ghiaccio Sicuramente potrebbe essere la forma che avrà l'ultima skin del pass battaglia 7 e a proposito di pass battaglia season 7 Ragazzi non c'è ancora nessuna immagine ufficiale quindi non parliamo ancora di pass aspettiamo che l'ip games ci dica qualcosa O lo vedremo direttamente nel game dopo domani con l'aggiornamento in live qui su youtube Ragazzi occhi di un mago Aurora Boreale al centro ghiaccio e season 7 e il tizio sulla destra che sembra avere degli snowboard Tizio laga che rivediamo nel teaser numero 2 eccolo qui probabilmente questo qua ragazzi che sembra una sorta di gatto Potrebbe essere una delle prime skin che utilizzeremo se non proprio la prima ragazzi nel pass battaglia Season 7 e ragazzi sta andando sembra su degli sci o su uno snowboard E la cosa mi ricorda tantissimo Ring of Elysium un battle royale nuovo non so quando è uscito Dove la mappa è nevata e si può andare sullo snowboard per avanzare nella mappa Ragazzi vi lascio qua un sondaggio snowboard o non snowboard votate e fatemi sapere qua sotto nei commenti Ma attenzione perché dietro al personaggio raga abbiamo anche un altro omino che in realtà non ho visto nell'immagine del di ieri Nel teaser numero 1 ci sta un'immaginetta ragazzi un personaggio che sembra stia cadendo Ok perché non ha lo snowboard o gli sci E tra l'altro c'è a mano un'arma quel piccolo omino raga dietro lo snowboard tra virgolette A mano un'arma e nell'altra ha qualcosa che non capisco cosa sia ma lasciamo perdere raga per il momento Mi sa che domani ci faranno vedere quell'omino può essere quel personaggio Comunque raga commentino qua sotto ditemi cosa ne pensate E tra l'altro adesso in un ultimo in game Il video raga durerà pochissimo volevo fare questo video giusto per chiedere la vostra L'idea di vedere la mappa della season 7 innevata se non ghiacciata E l'idea di avere anche lo snowboard come mezzo per poter avanzare Mi mette troppo hype Secondo me raga sarà una figata questa stagione Secondo me sarà una figata assurda Detto questo ragazzi intanto che aspetto i vostri commenti Io vado già in game ok perché nell'isola della lobby sta già cominciando a nevicare Da circa due orette dalle 17 no scusatemi dalle 16 e mezza circa Solo nella lobby o meglio nell'isola scusate della lobby Ha cominciato a nevicare guardate Boom ragazzi sta nevicando Nella mappa ancora no Ok qua si vede benissimo guardate Ok raga la neve sta cominciando a cadere Potrebbe essere che prima della season 7 addirittura raga Vedremo in realtà qualche zona della mappa già in nevata O magari direttamente con la season 7 raga cosa ne pensate Mi raccomando commentino qua sotto Noi ci vediamo domani Probabilmente caricherò due video domani Quindi non mancate assolutamente E niente Votate qua sotto Ci vediamo raga domani con l'ultimo teaser E poi live dopo domani Ciao ragazzi